Mattina del giorno 7, salutati i nostri amici trentini che sono partiti per tornare sulla terraferma vado a ritirare la bici che è stata riparata e raggiungeremo i nostri amici bergamaschi spiaggia e poi qualcosa ci inventeremo la sfiga continua a perseguirmi e il mono ha perso tutta l'aria fortunatamente c'è la pompettina e farò la ricarica oh no andiamo cielo strano oggi plumbeo ma il mare regala ugualmente colori meravigliosi poi visto dall'alto così sempre straordinario evviva il granito a la 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.